Buongiorno amici di BCTV e benvenuti a Busseto, città natale di Giuseppe Verdi, uno dei borghi più belli d'Italia e oggi sabato 1 aprile anche capitale italiana del ciclismo, essendo sede di partenza e di arrivo della 73esima edizione della Milano Busseto, gara di caratura nazionale riservata agli under 23. Una corsa storica quella organizzata dal pedale Bussetano, vinta anche da Francesco Moser nel 1971 e che ha radunato in provincia di Parma 199 atleti provenienti dall'Italia ma non solo. Prima di addentrarci nell'aspetto agonistico della competizione permetteteci di divagare un po' e dire due parole su questo territorio in cui si respira storia, cultura e, perché no, anche l'aroma dei deliziosi prodotti tipici locali. Piazza Verdi e l'imperiosa Rocca Pallavicino, epicentro della fase di partenza, sono solo due dei cimeli storici di un borgo caratterizzato anche dai portici, dalla collegiata di San Bartolomeo Apostolo e da Palazzo Orlandi. La Rocca Pallavicino, tra l'altro, ospita il teatro Giuseppe Verdi, epicentro delle iniziative culturali del paese dedicate non solo al maestro, ma anche alle associazioni locali. Busseto, inoltre, è una delle estremità della ciclovia della Food Valley, un percorso ciclistico di 80 chilometri che collega Busseto a Parma, poco indicato a chi vuole perdere peso, visto che si pedala nei territori del Culatello, della Spongata, del Lambrusco, del Tortel Dois, del Prosciutto Crudo e ovviamente del Parmigiano Reggiano. E proprio su questo percorso si terrà sabato 3 giugno l'ingorda pedalata cicloturistica da Parma Busseto caratterizzata da ben nove tappe gastronomiche. Ma torniamo ora, grazie alle immagini della riunione tecnica nel vivo del servizio dedicato appunto alla Milano Busseto e lo facciamo facendo presentare l'evento da Paolo Bossoni, presidente del pedale bussetano e unico ex professionista di Busseto ad aver vinto nel 1997 la gara di casa. Innanzitutto buongiorno a tutti, sicuramente una grande giornata di sport, il sole per fortuna ci bacia, i corridori ci sono, speriamo che vada tutto bene, dai. 200 corridori in rappresentanza del meglio del movimento nazionale, anche qualche squadra internazionale, che gara ci aspetta? Ma sicuramente una gara interessante sia dal punto di vista tecnico che da composizione dei corridori. Una gara dal nostro punto di vista organizzativo che abbiamo fatto del meglio per far sì che non succeda niente e speriamo che vinca il migliore come sempre. Tu questa gara l'hai vinta, tu sei di Busseto, che piacere è, che sensazione è portare tutto questo movimento nella tua città natale? Ma se devo essere sincero fino a ieri sera è stato più un dispiacere, tutti i problemi, troppi problemi, anche per gli organizzatori continuano ad essersi problemi che fanno stancare le persone di fare queste cose qua. Noi siamo un gruppo giovane che ringrazio perché veramente siamo un gruppo top che mi aiutano in tante cose e è un piacere fare questa cosa perché io sono l'unico Bussetano a averla vinta. Paolo Bossoni ha parlato dei corridori e andiamo quindi a scoprirli insieme. 199 gli atleti iscritti in rappresentanza di 34 società. 30 sono quelle italiane, mentre 4 provengono dall'estero. Il Development Team della Aje des Air, la VCA Exein, la Nazionale Ucraina e la selezione Under-23 tedesca, in cui spicca il nome del ventenne Tim Tom Theutenberg, laureato sia a Grenken, campione europeo su pista nell'eliminazione. Già che ci siamo nominiamole tutte le formazioni al via. C'è la Over Altre Colli, la Lance Service, l'Area Cycling Team, la Gallina Ecotech, l'Arvedi Cycling che schierà l'Emiliano Mattia Pinazzi, la Scuola Ciclismo Valle Seriana, la Sias Rime, il Veloracing Palazzago, la Garlaschese, la Named Sport Aptivo, la Trevigiani, la Zalfer Mobil Desire Fior, il Sissio Team, il Pedale Scaligero, la Solme Olmo, la General Store, l'Onec Team, la Beltrami TSA Trecolli, la Cablotec Biotraining, il Futura Team, il GS Maltinti, il Q36.5 Continental Team, la MG Kavis, il Caniano Sporting Club, la Opla Petroli Firenze, la Mastro Marco, la BS Carrera, a segno una settimana fa con Niccolò Arrighetti e ovviamente il Team Colpac Ballan CSB, squadra che ha griffato le ultime due edizioni della corsa con Gida Sumbri e Davide Persico, quest'ultimo presente al via e che proprio oggi celebra il suo ventiduesimo compleanno. Si schiererà ai nastri di partenza anche la Rostese che ci terrà a ben figurare oggi per salutare nel migliore dei modi il DS Germano Nicolino, scomparso il 29 marzo e alla cui famiglia la redazione di BCTV vuole porgere le più sentite condolianze. Dalle immagini alla presentazione delle squadre avrete notato che molti atleti indossano calzini di colori diversi. La motivazione ce la spiega ancora una volta l'organizzatore Paolo Bossoni. Abbiamo collaborato con una società on-loose, i calzini spaiati, con questo lollo che è veramente di una tenerezza incredibile e volevamo aiutare anche questa associazione perché veramente merita, merita veramente tanto e vi incito a seguirla questa associazione perché sono dei bambini che hanno un qualche cosa in più. E sarà proprio l'ollo che qui vediamo in posa in compagnia di Paolo Bossoni e del sindaco di Busseto Stefano Nevicati a dare il via alla 73esima edizione della gara che si articolerà sullo stesso percorso di un anno fa per un totale di circa 150 chilometri e 5 gran premi nella montagna. Mentre assistiamo a queste prime fasi interlocutori di gara vediamo di sintetizzare il tracciato. Il gruppo si dirigerà da Busseto verso Castella Arquato, Lugagnano e Vernasca, sede del primo GPM. Poi due tornate sul circuito caratterizzato dall'ascesa di Vigoleno Castello. Poi nei pressi di Fidenza due tornate con la salita di Cogolonchio, prima del ritorno verso Soragna e infine Busseto, dove il gruppo percorrerà due volte il velocissimo anello cittadino. La storia recente e anche la start list ci suggerisce di scommettere sulle ruote veloci. Squadra dei velocisti che vedete immediatamente a lavoro su queste strade strette immerse nel verde. Ringraziamo ovviamente il nostro operatore in moto Diego Zanetti, così come gli organizzatori tengono a ringraziare le amministrazioni e le associazioni che hanno dato il patrocinio a questa manifestazione come la provincia di Parma, la provincia di Piacenza, il comune di Busseto, l'Avis e la regione Emilia-Romagna. Mentre stiamo parlando, tra l'altro, vediamo anche il primo tentativo di giornata che è promosso dal numero 103 Lorenzo Farinati, portacolori della Solme Olmo. Lorenzo è un classe 2002, quindi è al terzo anno nella categoria under 23 e l'anno scorso era un portacolori della Named Sport, quindi sono per lui le prime uscite in maglia con la nuova maglia della società. Vediamo buona la sua azione, però da soli è veramente difficile evadere, vedremo se riuscirà il ragazzo a portare con sé, a far sganciare un gruppetto con cui sicuramente si andrà più facilmente più lontano. Cerchiamo di capire anche grazie alle immagini in moto il vantaggio che ha maturato, vedete sono poche decine di metri, siamo nelle classiche fasi iniziali di gara dove tutti cercano di evadere. Tra l'altro vedete che c'è un portacolori della Delio Gallina che si è riportato sotto il battistrada, ma come vedete il gruppo è lì e sono proprio quelle iniziative, si sta tastando il polso per cercare di portare via una fuga, anche perché il primo GPM non è molto lontano. Per arrivare al primo gran primo della montagna di Vernasca ci sono soltanto 29 chilometri, quindi è importante far sganciare immediatamente un gruppetto per riuscire a cogliere punti importanti nella classifica speciale dei gran primi della montagna, così come del traguardo volante, anche se il traguardo volante arriverà soltanto in località Scipione Ponte all'altezza del 67 chilometro di gara. Intanto vediamo che davanti si stanno, si è sganciato un terzetto con una folta rappresentanza, diciamo così, dalla Opla Petroli Firenze che ha sganciato, andiamo a vedere, il 171 che è Matteo Regnanti, classe 2001, quindi è al quarto e ultimo anno nella categoria under 23, cresciuto tra l'altro tra gli juniores nel team Stabia e il suo compagno di squadra Lorenzo Tedeschi che è di un anno più giovane, quindi alla terza stagione alla corte del team diretto, oggi in macchina in ammiraglia da Matteo Provini, con loro Niccolò Galli che è la maglia dell'Arvedi, anche lui ragazzo classe 2002, alla terza stagione con il club Lombardo con cui ha maturato una certa esperienza in pista. Abbiamo visto allora in seguimento due corridori, un corridore ucraino oltre a Luca Rosa della Sias Rime. Il gruppo Lascia Fare veleggia con un ritardo di circa un minuto e trenta dopo il primo Gran Premio della Montagna che è stato vinto da Matteo Regnanti, quindi il primo Gran Premio della Montagna di Vernasca è stato vinto dal corridore che difende i colori del team toscano. Ora stiamo salendo verso invece il secondo Gran Premio della Montagna, quello a Vigolengo Castello, vedete che bella, in che località splendida viene fatta transitare la corsa, ma purtroppo come vedete la corsa non transiterà in maniera lineare su questo Gran Premio della Montagna perché a causa di una serie di cadute, per fortuna senza gravi conseguenze per gli atleti, le ambulanze, le tre ambulanze al seguito sono state costrette a abbandonare la carovana, quindi la corsa è stata neutralizzata. Si assisterà a una lunga neutralizzazione in corsa di circa 50 minuti dove tempo necessario e utile per far rientrare le tre ambulanze e anche dare modo agli organizzatori di studiare un nuovo tracciato per non uscire dalla tabella di marcia originale. Ci sono dei permessi che vengono ovviamente rilasciati dalle varie amministrazioni locali, dalle varie autorità, molte autorità sono coinvolte nella... molti enti locali sono coinvolti nell'organizzazione della gara, quindi il gruppo è stato fermato per circa 50 minuti. Eravamo praticamente all'altezza del chilometro 41 e mezzo di gara. Vediamo proprio la giurè e i commissari di gara insieme a Paolo Bossoni cercare di trovare delle soluzioni che vengono individuate nel accorciamento della neutralizzazione di fatto della prima discesa da Vigoleno Castello e dalla riduzione di un giro sia del tracciato dell'anello di Vigoleno Castello che quindi non vi verrà più percorso e sia dallo stralcio dalla tavola di marcia di un passaggio sul circuito caratterizzato da Pogolonchio, dalla salita di Pogolonchio. La gara per fortuna riprende, le ambulanze sono rientrate in corsa e riprende con i quattro fuggitivi davanti a tutti. Quindi abbiamo detto, hai già citati Niccolò Galli, Matteo Regnanti e Lorenzo Tedeschi, si è aggiunto appunto Luca Rosa che scattano con una cinquantina di secondi di vantaggio su due inseguitori. Eccoli qua, Matteo Fredi della Beltrami TSA Trecolli e Marco Manenti pure lui dell'Opla Petroli Firenze Don Camillo. Quindi società toscana che decide di fare corsa dura anche se ovviamente avendo tolto di fatto tre dei cinque gran premi nella montagna sarà molto difficile riuscire a incattivire la competizione. Anche se non si sa, l'incognita di stare fermi 50 minuti di gara può pesare sulle gambe di alcuni portacolori. Nel frattempo vediamo sempre i fuggitivi, i quattro fuggitivi che stanno affrontando le rampe del Cogolonchio. Quattro fuggitivi su cui si portano a doppia velocità sia Matteo Fredi che Marco Manenti. In sei provano questi fuggitivi a fare la differenza. Vedremo se avranno fortuna anche se alle loro spalle il gruppo tiene tutti abbastanza. Li tiene a tiro, diciamo così. Si potrebbe parlare di lenta rosolatura per i sei fuggitivi che comunque collaborano a pancia a terra per cercare di guadagnare più terreno possibile. Tra l'altro abbiamo detto che in fuga c'è Matteo Fredi che fa parte di un team il Beltrami TSA Trecolli che dall'inverno scorso ha attivato anche un progetto dedicato al fuoristrada soprattutto al ciclocross tra le loro file Filippo Agostinacchio che ha vinto a Roma il campionato italiano ciclocross tra gli under 23. Come detto lenta rosolatura, nemmeno troppo lenta perché alle loro spalle si scatena il team Colpac Ballant CSB a caccia dei battistrada con tutta la squadra, con tutta la formazione. Vediamo anche davanti un uomo del Q36.5 Continental Cycling Team così come i francesi del Aje Deserre Under 23 che ricordiamo schierano anche il piemontese Gabriel Fede. La Colpac invece si era presentata al via con una rosa che vedeva al suo interno anche Luca Cretti oltre a Persico, Luca Cretti, Francesco Dallallunga, Nicola Smilesi, Alessandro Romele e il giovane Lorenzo Nespoli e l'abbiamo vista proprio tutta al completo là davanti a cercare di chiudere il buco rispetto ai fuggitivi che infatti nonostante i loro generosi sforzi sono stati riassorbiti prima del rientro del gruppo verso Fidenza e il circuito cittadino. Quindi un gruppo che tra l'altro vedete ridotto a non tantissime unità anche perché oltre a questi attacchi che vediamo promossi a più riprese anche dai corridori francesi ma anche dai corridori della Zalf e della Rimesias a complicare la marcia del gruppo c'è anche un forte vento laterale che ha spinto tante società a portare avanti i loro uomini migliori per evitare guai. Qui continuiamo a vedere una serie incessante di attacchi, vediamo una maglia della BS Carrera davanti dovrebbe essere quella di Andrea D'Amato, attenzione Andrea D'Amato è un velocista molto forte se non vediamo male dietro c'è Alessandro Romele e in quarta ruota un portacolori della Rimesias che dovrebbe essere Federico Iacomoni se non vediamo male. Però come vedete il gruppo si guarda, come vedete l'uomo della Colpac Ballani in seconda ruota non dà cambi ovviamente la formazione di Patronco Leoni vuole portare allo sprint uno tra Francesco Della Lunga già vincitore quest'anno la Firenze-Empoli o Davide Persico che ha vinto sia la Coppa San Geo che la Popolarissima quindi non c'è accordo là davanti, non si riesce a trovare il giusto passo per eludere un controllo del gruppo che non a caso sta rientrando sui battistrada ed è rientra sui battistrada nel momento migliore perché Fidenza è ormai alle spalle, il gruppo si sta velocemente avvicinando al circuito cittadino intorno a Busseto un circuito cittadino totalmente pianeggiante che misura circa 5 km essendo un circuito alle porte di un borgo storico ovviamente non mancano le insidie quindi le squadre dei velocisti vogliono soprattutto tenere lontani dalle possibili insidie i propri capitani non a caso ripresi e annullati le varie sortite torna la Colpac Ballan a cercare di bloccare tutto come vedete un atleta prova a evadere il numero 167 Alessio Ninci ma come è facile immaginare da soli è davvero difficile andarsene la formazione bergamasca ma non solo tiene il gruppo compatto così come i francesi che non a caso sono i primi a transitare sotto l'arrivo per l'inizio delle due tornate pianeggianti cittadine vedete tante maglie bianche vediamo anche comunque anche la general store lì davanti che schiera anche il figlio d'arte Kevin Pezzorosola e evidentemente i francesi vogliono fare la corsa per il loro velocista che dovrebbe essere Harry Leuton che abbiamo già visto protagonista alla Coppa San Geo chiusa al quinto posto vedremo se chi avrà la meglio in questo finale che come si prevedeva è dedicato alle ruote veloci gruppo che si presenta compatto sul rettilino finale ed è proprio Andrea D'Amato che parte e lancia il suo sprint molto presto ma viene scavalcato a 120 metri dal traguardo da Davide Persico che cerca il tri stagionale ed è Davide Persico che si impone alla 73esima edizione dalla Milano Busseto precedendo il comunque bravo Gianluca Cordioli del Sissio Team che centra un bel secondo posto al primo piazzamento stagionale per il corridore di Mantova terza piazza per il tedesco Team Thorne Theotenberg questo è il podio della 73esima edizione della Milano Busseto rivediamo lo sprint con cui Davide Persico centra la terza vittoria stagionale e vediamo anche il bel colpo di Reni con cui Team Thorne Thunenberg ha la meglio su Josue Epis, Andrea D'Amato e Francesco Della Lunga del Team Colpac Valanci SB poi Federico Iacomoni del CS Rim e Carnivali l'avevamo visto là davanti Harry Leuton della G2R, Jerome Lagrenade della AVC XAIN e Lorenzo Peschi della General Stoll che chiude la top 10 Davide Persico, miglior modo di festeggiare il 22esimo complanno non poteva esserci? secondo vittorio alla Milano Busseto, terza vittoria alla stagionale Sì dai oggi ci tenevamo a far bene come squadra davanti alla lavorata della lunga poi sul finale l'hanno un po' stretto l'ultima curva e io mi sono trovato davanti, ho fatto la lavorata e ho vinto è stata una gara nervosa caratterizzata anche da una lunga sospensione come vi siete gestiti e come siete ripartiti? Noi abbiamo sempre corso davanti, abbiamo sempre cercato di prendere salite e le discese davanti per evitare cadute poi finita la prima salita abbiamo fatto un po' il forcing col vento e si è rotto un po' il gruppo poi in salita abbiamo fatto ancora un buon ritmo e siamo rimasti giusto una 30-40 e siamo arrivati ad arrivo così Mettiamolo così, si inizia aprile, è un'altra fase nuova, inizieranno corsi importanti, internazionali tu come ti senti e quali sono i tuoi obiettivi? Adesso chiudo la prima parte di stagione in maniera ottima, adesso penso di fare qualche giorno di riposo per poi rimpostare liberazione, comunque tutte le gare principali che ci sono a maggio e giugno Allora il tuo compleanno, il regalo te lo sei fatto, facciamo anche una dedica? La dedica va alla mia famiglia e tutti quelli che mi seguono che mi permettono di fare questo sport nel migliore dei modi Gianluca Cordioli, secondo posto molto buono qui alla Milano-Busseto, è mancato soltanto un pelo per riagganciare Davide Persico Sì, è mancato veramente poco, sono uscito gli ultimi 150 metri, ero in leggera rimonta, però è andato a vinto Davide È un bel piazzamento per voi comunque? Sì, sì, sono contento, è il primo piazzamento della stagione, lo stavo rincorrendo dall'inizio della stagione e finalmente è arrivato È arrivato al termine di una gara, che è andata come secondo te? Eh, diciamo che la gara è stata un po' falsata, dopo l'accaduto sono andate via l'ambulanza, è stata fermata per parecchio tempo E diciamo che per me è stato forse peggio, perché preferivo che venisse gara più dura Tenendo meglio le salite, però dai, ci accontentiamo di questo secondo posto C'è tempo per le salite, inizia aprile, inizieranno tante gare importanti, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Domani sarò a Reda e martedì a Mercatale e poi dopo sabato Casteldario e martedì prossimo il Paglio del Recciotto Tintern Tannenberg, 3rd place qui in Busseto, cosa pensi di questa gara? Sì, è stata una bella gara, il percorso mi è piaciuto, sfortunatamente a causa delle cadute abbiamo perso i due giri con le salite Tu sei molto forte sia su strada che in pista, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Ora mi recherò a Milton in Canada con la nazionale per partecipare alla terza prova del UCI Nation Cup Spero di cogliere bei risultati anche lì Grazie 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 Grazie